salve amici del centro metro italiano violenta ondata di maltempo in arrivo sulla nostra penisola per l'affondo della saccatura nord atlantica vediamo nel dettaglio le aree più colpite nelle prossime ore il flusso di correnti umide e instabili tenderà ad intensificarsi al settentrione con possibilità di nubi fragili sulle aree alpine prealpine oltre che sulla liguria di levante con l'avanzare dell'aria fredda in quota le piogge i temporali si sposteranno gradualmente anche al centro sud mentre qualche fiocco di neve farà la sua comparsa sulle alpi entrando ancora più nel dettaglio le nevicate interesseranno tutto l'arco alpino oltre i 1300 1500 metri entro le ore serali e notturne di venerdì tra sabato e domenica un nuovo vortice depressionario impatterà sulla nostra penisola portando condizioni di maltempo diffuso per tutti i dettagli su questa fase di maltempo vi invitiamo come sempre a seguire sia il nostro sito che il nostro canale youtube un saluto da parte del centro metro italiano